Scegliere una persona con la quale condividere la propria esistenza è una delle decisioni più difficili che la vita ci riserva, sempre, perché quando questa è sbagliata tutto diventa grigio, spesso neanche te ne accorgi finché una mattina ti svegli e ti rendi conto che gli anni sono volati via e questo lo sappiamo entrambi, no? Volevo dirti che la tua amicizia ha portato un glorioso arcobaleno nella mia vita che ha illuminato i giorni più bui, io mi sento l'uomo più fortunato del mondo per questo, spero solo di non aver dato quel scontato però in realtà credo di averlo fatto, perché a volte a volte non ti rendi conto che la cosa più bella che ti sia mai capitata nella vita c'è proprio lì davanti ai tuoi occhi, però va bene così, perché alla fine ho capito che non non importa dove tu sia, con chi sia o cosa tu stia facendo, perché io per sempre sinceramente, sinceramente, completamente, profondamente, io ti amerò